Siamo in una fase di costruzione, sappiamo, cioè chi si aspetta che la squadra già abbia i suoi meccanismi, i suoi automatismi, forse non ha ben presente quale sono le vicissitudini e la pazienza che deve avere questa squadra. Noi dobbiamo guardare a far migliorare il nostro gioco, perché quella è la priorità, è la priorità di una squadra molto rinnovata, è la priorità di una squadra che ha diversi ragazzi giovani, quindi prima di tutto dobbiamo pensare a quello e sfruttare tutti gli allenamenti per cercare di far crescere i meccanismi e la continuità. Ci sta, alla fine è un percorso, un inizio, è una squadra nuova, tanti ragazzi giovani, quindi dobbiamo soltanto che imparare di queste partite, fare autocritica e continuare a lavorare. Purtroppo quando fai tanti errori è difficile giocare, poi loro hanno giocato bene, sono stati costanti, quindi i set che abbiamo vinto hanno giocato molto bene, i set che abbiamo perso abbiamo fatto troppi errori, quindi da non sottovalutare e da correggere. Sappiamo che dobbiamo giocare bene o migliorare almeno ogni settimana qualcosa e provare a non commettere i stessi errori delle partite precedenti, quindi dobbiamo andare avanti, un po' di pazienza e sicuramente i risultati arriveranno e il buon gioco sicuramente arriverà.